Questa nuova tecnica chirurgica consiste nella cura conservativa della mammella per il tumore al seno con un approccio assolutamente innovativo extra mammario, cioè anziché intervenire direttamente sulla sede del tumore facendo una incisione sulla cute al di sopra della lesione della mammella, si interviene al di sotto del solco sottomammario e questo garantisce un'assenza di cicatrice visibile proprio perché in piedi la paziente ha il seno che copre la cicatrice. Sembra una cosa molto banale, in realtà l'accesso è nuovo perché non è stato descritto prima d'ora ed è una soluzione che tiene conto anche dei risvolti psicologici e umani di una paziente affetta da questa malattia. Questo vuol dire anche che questo tumore è sempre in continua crescita, si continua a espandersi e quindi bisogna cercare nuove tecniche per soddisfare al meglio anche i clienti se vogliamo così dire. Sì, in realtà il tumore al seno effettivamente ha un'incidenza importante, in Italia si registrano circa 30.000 nuovi casi di tumore al seno di cui circa un migliaio nella sola provincia di Bergamo. Il tumore della mammella incide profondamente sul vissuto di una donna, sia dalla difficoltà di scoprirlo, all'impatto con la diagnosi, alla difficoltà di accettare un intervento demolitivo e mutilante, fino alle terapie farmacologiche e radianti. Quindi il rapporto medico-paziente è assolutamente importante nella cura senologica e le terapie del futuro nascono proprio dal bisogno di associare ad una maggiore efficacia il rispetto per i risvolti psicologici e umani. Grande forza appunto di questa azienda ospedaliera, il fatto che comunicate bene tra i vari ospedali e quindi si cerca di portare in tutte queste sedi questo nuovo metodo di operare al tumore al seno. Sì, la senologia è una delle attività più sociali, oltre che di grande valenza per quanto riguarda l'attività clinica. Ovviamente abbiamo cercato di spalmare su tutti i nostri ospedali quella che è l'attività in maniera tale da essere più vicini possibile dal punto di vista territoriale alle richieste della gente. Non dimentichiamoci che il cancro del seno è una delle malattie direi più prorompenti in questo periodo e soprattutto da un punto di vista psicologico è una di quelle più difficili. Il fatto che sia stato possibile attraverso il dottor Gerbasi, il professor Novellino che ha lanciato questa operazione di andare vicino al malato piuttosto che farlo venire da noi, ha migliorato in maniera significativa quella che è la nostra compliance, capacità di rispondere alle licenze della gente. L'altra cosa clamorosa e importante è stata che oltre alla demolizione abbiamo in contemporanea tramite la nostra senologia messo in atto la tecnica della ricostruzione. Questa tecnica della ricostruzione che si affina sempre di più ha portato ad alcune particolarità che sono state messe in evidenza a livello mondiale in alcuni congressi con alcune tecniche che il dottor Gerbasi e i suoi colleghi hanno messo in atto per migliorare questa capacità ricostruttiva.